Ancora caos nelle scuole piacentine, tra professori mancanti, uscite anticipate e ore di lezione ridotte. Stamattina, intanto, un esercito di centinaia di supplenti si è riversato nell'Aula Magna dell'ISI Marconi alla conquista delle cattedre vacanti. Gli aspiranti docenti si sono contesi circa 380 posti nelle scuole medie del nostro territorio, sia per un contratto a termine fino al 30 giugno, al termine delle attività didattiche, oppure per sostituzioni annuali fino al 31 agosto. Il problema, secondo me, riguarda sostanzialmente le tempistiche di questa chiamata generale, che avvengono quasi sempre molto tardivamente. Le scuole aprono con una riduzione di organico eccezionale e tutto questo non favorisce la didattica, non favorisce chi ha bisogno di un sostegno. La grande emergenza è il sostegno nella scuola, oltre che le discipline, come lettere, matematica, lingue straniere e tante altre. Dalle ore 9 la cosiddetta chiamata dei supplenti si è rivolta ai docenti iscritti in seconda fascia e in terza fascia con un punteggio superiore a 40 punti. Dalle ore 14, invece, la convocazione per i professori in terza fascia con un punteggio inferiore a 40 punti. I sindacati hanno vigilato sulle operazioni di reclutamento, criticando apertamente la situazione. Un primo inghippo da parte dell'ufficio scolastico provinciale, che ha comunque restituito le disponibilità delle catede in organico di fatto e in organico di diritto alle scuole in ritardo, per problemi sinceramente che non abbiamo ancora capito. Le scuole però, per questo motivo, hanno avuto poco tempo per prepararsi e per indire la cosiddetta chiamata polo, la convocazione unificata. Grazie.